Una bella iniziativa per domenica prossima. Perché? Perché Piazza del Campidoglio si animerà con il primo appuntamento della manifestazione Scacchi in Città. L'evento è organizzato dalla Federazione Scacchistica Italiana in collaborazione con l'assessorato allo sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Capitale. Al fine di promuovere questa disciplina dall'alto valore sociale, educativo ed inclusivo in sede di particolare fascino culturale e paesaggistico. Tre campionesse di Scacchi sfideranno il pubblico di partecipanti in una simultanea. Per comprendere meglio questa bella iniziativa, sicuramente virtuosa e la prima del suo genere, ho raggiunto al telefono l'assessore Daniele Frongia, l'assessore allo sport, le politiche giovanili e grandi eventi di Roma Capitale, che saluto e ringrazio. Buongiorno, assessore. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto ai microfoni della Radio Vaticana. Grazie per la sua disponibilità. Sappiamo che era un po' preso, tirato per la giacca da una parte all'altra. Bene, però parlare di Scacchi non fa mai male, tant'è vero che avete organizzato questa bella iniziativa per domenica. Allora, di che cosa si tratta? Dove si svolge? Invitiamo i nostri radioascoltatori proprio a parteciparvi perché, insomma, è singolare. Allora, sì, abbiamo insieme alla federazione pensato di fare un evento, non un evento isolato, ma anzi una serie di eventi che sarà una manifestazione ricorrente ogni anno durante la bella stagione. Quindi partiamo adesso, partiamo domenica, il 28 maggio alle 10 in piazza del Campidoglio. Quindi per la prima volta vedrà scacchisti, maestri, addirittura dei campioni con 12 scacchiere poste proprio sulla piazza dove ci sono appunto sul disegno Michelangelesco della piazza dove sfideranno altri scacchisti, cittadini, turisti, più qualche altra sorpresa che non anticipo. Peccato. Allora, magari attraverso i microfoni della Radio Vaticana potevamo in qualche modo anticiparlo. Ma comunque l'amministrazione capitolina ha scelto di diffondere la conoscenza di questo sport. Perché? Perché ovviamente tra i diversi motivi c'è anche la dichiarazione del Parlamento europeo del 15 marzo del 2012 che ha invitato i paesi dell'UE a inserire gli scacchi tra le materie curriculari nella scuola dell'obbligo. E in Italia sono insegnati molte scuole, anche se per ora purtroppo tra le materie facoltative. Questa iniziativa è un po' da supporto o per sensibilizzare un po' anche i nostri istituti di formazione a cercare di inserire questo sport tra le materie curriculari oltre che a far conoscere questa disciplina? Sì, è un modo per far conoscere di più la disciplina, per promuoverla, ma poi, come dice giustamente lei, il contatto con le scuole è di fondamentale importanza. Quindi stiamo lavorando anche in questa direzione, anche perché è ormai provato che l'apprendimento è il gioco dei scacchi, il gioco, la pratica, senza necessariamente dover diventare dei campioni. Il 99% dei scacchisti vive felicemente senza esserlo e anche con un grande ritorno. Come stavo dicendo, è stato dimostrato che gli studenti, grazie al gioco dei scacchi, apprendono anche più facilmente altre materie scientifiche. Ormai ci sono studi scientifici decennali sul tema, quindi in qualche modo è sicuramente una promozione del gioco dei scacchi che non ha alcuna controindicazione. A che ora e chi può partecipare domenica? Allora, alle 10 sulla piazza del Campidoglio di domenica possono partecipare tutti. In qualche modo ci stiamo organizzando per affrontare anche un'eventuale piccola folla che verrà a trovarci in Campidoglio. Quindi piccola folla di visitatori, di persone che comunque sono interessate, non solo agli scacchi, mi pare di aver capito. Sì, agli scacchi, a vedere anche il Campidoglio, ci saranno anche i musei. Si può abbinare un tour completo sul Colle Capitolino. Ho capito. Una gita nel cuore di Roma, il tema sono gli scacchi, però c'è anche altro. Allora, Assessore, l'iniziativa è quella di domenica, ma avrà un calendario, che si ripeterà per chi non fosse in grado di poter arrivare domenica per tanti motivi. Ci saranno altre date, ci saranno altre iniziative similari? Ogni mese fino a settembre-ottobre, il calendario verrà naturalmente pubblicato e diffuso in ogni dove, a parte dal sito del Comune di Roma. Sceglieremo una piazza diversa, quindi non sarà sempre il Campidoglio, che per molti romani è difficile da raggiungere. E quindi ci muoveremo e raggiungeremo piazze e file storiche, dove organizzeremo, sono già in calendario, appunto lo stesso tipo di incontro, ma appunto in aree diverse della città. La periferia è presa in considerazione, Assessore? Andiamo fino in zone periferiche per quest'anno, e poi parallelamente è un'anticipazione volentieri, rilato a Radio Vaticana. Stiamo lavorando anche per piccole strutture permanenti, anche in periferia, nei parchi. Le strutture intendo scacchiere, insomma, fisse per i giocatori. Dal prossimo anno l'edizione si svilupperà maggiormente in periferia, sempre partendo però dal Campidoglio. Alla fine la mia insistenza, in qualche modo, qualche cosa le ha cavato. È stata premiata, è stata premiata, devo dire. Grazie, Assessore. In bocca al lupo per questa bella iniziativa, che lo ricordiamo è anche in collaborazione con la Federazione Scacchistica Italiana, giusto? Giusto, e con la Federazione Scacchistica della Regione Lazio. Benissimo. In bocca al lupo, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, a presto. Grazie. Era l'assessore Daniele Frongia, assessore allo sport, alle politiche giovanelli e grandi eventi di Roma Capitale, per parlarci della prima iniziativa Scacchi in città, la manifestazione sportiva, che parte domenica dal Campidoglio. Appuntamento alle 10, proprio in piazza del Campidoglio.